Spesso nei miei video uso parole un po' tecniche, magari non facilmente comprensibili da tutti o da chi è nuovo al mondo dei funghi. Ho pensato quindi che il modo migliore per ringraziarvi e festeggiare i mille iscritti al canale fosse quello di pubblicare un video extra in cui chiarire il significato di questi termini relativi al mondo dei funghi. Ecco quindi un breve glossario dei termini micologici in rigoroso ordine alfabetico. Ho inserito quelli più comuni o più difficili da capire. Ma iniziamo a conoscere un po' di parole difficili per diventare più esperti e più bravi a descrivere il fungo che abbiamo raccolto. Ad nato, in relazione al limenoforo, significa che i tubuli, le lamelle o gli aculei finiscono sul gambo. Anello, residuo del velo generale o del velo parziale che si trova sul gambo, di solito nella sua parte più alta, formando appunto una sorta di anello che può essere più o meno fragile, resistente, completo. Appendicolato. In relazione al cappello sta a indicare la presenza di residui del velo parziale o generale che formano una decorazione composta da fioccosità o che hanno un aspetto simile a un merletto. In relazione al gambo, invece, il termine appendicolato sta a indicare che il gambo stesso termina con un appendice simile a una radice che si radica in profondità nel terreno. Ascomiceti. Divisione dei funghi caratterizzati da un imenio che produce cellule fertili definite aschi. Per sapere cosa siano gli aschi vi rimando al video che cos'è un fungo. Trovate il link in descrizione. Armilla. Letteralmente significa calza e sta a indicare che il gambo del fungo è rivestito ad una specie di calza a partire dalla base e che finisce al di sotto del cappello dove va a formare un anello. Boletoide. Si dice di un fungo che ha l'aspetto simile a quello dei boletti, con il cappello carnoso ed emisferico e il gambo ingrossato alla base e a forma di birillo. Basidiomiceti. Divisione dei funghi caratterizzati da un imenio che produce cellule fertili definite basidi. Per sapere cosa sono i basidi vi rimando al video che cos'è un fungo. Carpoforo o corpo fruttifero è il fungo ovvero il frutto del fungo che di solito viene raccolto e messo nel cesto. Cassante. Si dice quando la carne di un fungo si rompe in modo netto come il polistirolo, la polpa di una mela o un gessetto. Tipico della famiglia delle russulacee a cui appartengono il lactarius e le russule. Cespitoso. Si riferisce ai funghi che crescono uniti alla base del gambo a formare un cespo come un mazzetto. Sinonimi di cespitoso sono aggregato, connato, fascicolato. Con colore. Si dice che due elementi sono con colori quando hanno lo stesso colore. Per esempio il gambo e le lamelle del cantarellus cibarius sono con colori tra di loro. Cuticola o pellicola. Costituisce lo strato più esterno del cappello e che lo riveste. Può essere parzialmente o totalmente asportabile oppure non asportabile, cioè impossibile da staccare dalla carne del cappello stesso. Decorrente. In relazione all'immenoforo significa che le lamelle, i tubuli o gli aculei o idni continuano a lungo il gambo e non terminano su di esso. Distanti. In relazione all'immenoforo significa che le lamelle o i tubuli terminano prima del gambo ovvero che sono separati dal gambo. Eccedente. In relazione alla cuticola significa che la cuticola stessa supera il margine del cappello e si ripiega sull'immenoforo. Eccentrico. In relazione al gambo significa che il gambo stesso non è al centro del cappello ma è spostato su un lato. Edule. Sinonimo di commestibile. Farcito. In relazione al gambo, quando la parte centrale del gambo stesso appare costituita da una sostanza più molle o cotonosa o simile a un midollo. Midolloso è appunto un sinonimo di farcito. Fenolico. In relazione all'odore indica un odore simile a quello dell'inchiostro per scrivere. Festonato. In relazione al margine del cappello o dell'anello, quando risulta decorato da residui che appaiono come dei festoni, ovvero da residui del velo generale o del velo parziale. Filo. In relazione alle lamelle è la parte più sottile, quella che si trova dalla parte opposta del cappello, come il filo appunto di una lama. Fistoloso. In relazione al gambo, quando non è pieno ma presenta una piccola cavità al suo interno. Geotropismo. Proprietà che hanno i funghi e le piante di percepire la forza di gravità e di allineare le lamelle o limenoforo al terreno. Gleba. È la parte più interna dei funghi gastromiceti, a cui appartengono per esempio il licoperdon e che ne costituisce la parte fertile. Globoso. In riferimento al cappello, quando ha una forma quasi sferica. Glutinoso. Riferito a una sostanza gelatinosa e viscida, appunto glutinosa, che riveste interamente o parzialmente il fungo. Gregario. Si dice di funghi che crescono in gruppi di elementi distinti tra loro. Habitat. Ambiente in cui cresce e si riproduce una data specie. Idni. Sinonimo di aculei. Sono elementi che costituiscono l'imenoforo di alcuni generi, come per esempio l'idnum o il sarcodon. Ife. Sono gli elementi che costituiscono il micelio. Per approfondire l'argomento vi rimando al video che cos'è un fungo. Igrofano o igrofaneità. Caratteristica che hanno alcune parti del carpoforo, principalmente a livello dei cappelli e delle cuticole, di cambiare colore in base al tasso di umidità. Il colore diventa più scuro con l'umidità e più chiaro in condizioni di asciutto. Imenio. La parte del fungo dedicata alla riproduzione, ovvero la parte del fungo che produce le spore. È costituito dall'insieme degli aschi o dei basidi, disposti a loro volta sulle lamelle, nei tubuli o sugli idni. Spesso si parla di immenio lamelle, tubuli o idni, quando invece si dovrebbe più propriamente usare la parola imenoforo. Imenoforo. Parte del fungo che contiene l'immenio. In pratica è l'insieme delle lamelle, dei tubuli o degli idni. Immutabile. In riferimento al fatto che un elemento del fungo, come per esempio la carne, i tubuli, la cuticola, non cambia colore se esposto all'aria dopo rottura o taglio o se manipolato. Il suo contrario è virante. Infero. In riferimento all'anello. Un anello è infero quando risale dalla parte inferiore del gambo e si apre verso l'alto, cioè verso il cappello, come nel caso dell'armilla. Un anello è infero quando, tirandolo, si sbuccia verso il basso. Il suo contrario è supero. Involuto. In relazione al margine del cappello, quando questo è ripiegato verso l'immenio. Il suo contrario è revoluto. Lamelle. Lamine che si trovano al di sotto del cappello, disposti a raggera a partire dal gambo e che sono caratteristiche appunto dei funghi conimeno a lamelle. Lamellule. Lamelle incomplete, cioè che non arrivano al gambo e che partono dal margine. Lardaceo. Si riferisce alla consistenza di certe lamelle, come quelle della russula cianoxanta, che danno una sensazione di materiale grasso al tatto e non si rompono facilmente passandoci sopra il dito. Lattice. Liquido solitamente colorato, ma che può essere in colore, di densità variabile, che furiesce quando si spezzano le lamelle o la carne dei funghi del genere lactarius o micena. Altri generi possono produrre un liquido acquoso o lattiginoso, ma che non viene definito lattice. Leucosporei. Riferito a funghi che producono spori in massa con la sporata e che sono di colore bianco o color crema o rosa molto pallido. Lignicolo. Riferito a funghi che crescono direttamente sul legno, come saprofiti o parassiti, sui ceppi o sui tronchi degli alberi. Micelio. Reticolo costituito dalle ife e che si trova nel substrato di crescita del fungo, ovvero del corpo fruttifero. Per approfondire vi rimando al video che cos'è un fungo. Melanosporei. Riferito a funghi che producono spori in massa con la sporata e che sono di colore nero o nerastro. Micorriza. Associazione tra il micelio di un fungo e le radici dell'albero con il quale costituisce la simbiosi, ovvero l'associazione micorrizica. Per approfondire vi rimando al video che cos'è un fungo. Mitra. Denominazione del cappello delle helvellacee e delle morchellacee. Nota. Indica una componente dell'odore del fungo. Note fruttate significa che l'odore del fungo sa di frutta. Ocrosporei. Riferito a funghi che producono spori in massa con la sporata e che sono di colore ocra, ruggine o di varie tonalità di marrone. Ombelicatura. Presenza nel cappello di una fossetta piccola, stretta e ben visibile, che a volte si può continuare in un gambo cavo. Organolettico. Qualcosa che può essere percepito coi sensi, quindi solitamente qualcosa che ha a che fare con il sapore e l'odore del fungo. In realtà anche colore e consistenza lo sono, ma di solito ci si riferisce a gusto e odore del fungo. Ornamentazione. Tutto ciò che adorna il fungo in sé, quindi a culei o verruche sul cappello o sul gambo, reticolo, squamosità e così via. Pileico. Relativo al pileo, ovvero al cappello. Pori. Aperture verso l'esterno dei tubuli. Pianeggiante. In riferimento al cappello, quando questo diventa oppure è piatto. Sono sinonimi disteso, spianato, piano. Plissettato. In riferimento al cappello, vuol dire che presenta numerose pieghe disposte in modo radiale. Pruinoso. Coperto di una sostanza simile alla polvere, che può essere rimossa col tocco. Radicante. In riferimento al gambo, quando questo presenta una sorta di radice che si approfonda nel substrato di crescita, come nel Boletus radicans o nell'Agaricus bresadolanus. Rafanoide. In relazione all'odore, quando ricorda le radici, come per esempio il ravanello. Reticolo. Ornamentazione, che può rivestire una parte del fungo, anche se di solito riveste il gambo. Può avere maglie più o meno strette. Revoluto. In relazione al margine del cappello, quando questo è ripiegato verso la cuticola, ovvero la superficie del cappello stesso. Il suo contrario è involuto. Rodosporei. Riferito a funghi che producono spori in massa con la sporata e che sono di colore rosate o bruno-rossastro. Rugolosa o rugosa. In relazione alla superficie del fungo, quando questa appare rugosa al tatto. Scrobiculato. Scrobicolato. In relazione al gambo, quando presenta delle infossature a margine regolare, poco profonde e ben distinguibili le une dalle altre. Seccedenti. In riferimento alle lamelle, quando queste si possono separare facilmente dal gambo. Sferociti o sferocisti. Ife che hanno una forma circolare, caratteristiche della famiglia delle russulacee, cioè russule e lactarius, che conferiscono alla carne la rottura di tipo cassante. Smarginate. In riferimento alle lamelle, quando si attaccano posteriormente al gambo, formando così una piccolanza concava verso il basso. Sporata. La massa delle spore prodotte dall'immenio. Si può utilizzare per controllare il colore delle spore e classificare il fungo in base appunto al colore della sporata stessa. Spore. Corrispondono più o meno a quello che sono i semi per le piante. Stipite. Sinonimo di gambo. Striato. In relazione al margine del cappello, quando questo è percorso da piccole striature radiali che dalla periferia si dirigono verso il centro del cappello, costituite dalla visione delle lamelle in trasparenza attraverso la cuticola e la parte più sottile ed esterna del cappello. Supero. In riferimento all'anello, un anello è supero quando discende dalla parte superiore del gambo e si apre verso il basso, cioè verso il gambo. Un anello è supero quando tirandolo si sbuccia verso l'alto. Il suo contrario è infero. Tassonomia. Sistema utilizzato per classificare gli esseri viventi. Per i funghi, la tassonomia prevede classe, ordine, famiglia, genere e specie. Tometoso. In riferimento alla superficie di un fungo, quando questa ha consistenza vellutata, come per esempio nel gambo delle tapinella atrotomentosa. Toruloso. Sinonimo di noduloso, giboso, come per esempio il cappello degli idnum repandum. Tubuli. Elementi di forma cilindrica e cavi, come appunto dei piccoli tubicini che formano l'immenio delle boletacee e delle poliporacee. Umbone. Protuberanza al centro del cappello, in corrispondenza dell'inserzione del gambo, che può essere di forma acuta, ottusa o conica. Uncinate. In relazione alle lamelle smarginate, quando queste presentano un uncino o dentino che si prolunga leggermente lungo il gambo. Vaginato. In relazione al gambo di alcune amanite che presentano una volva che riveste il gambo come una guaina o una vagina. Velo generale. Involucro che riveste completamente il primordio. Per approfondire questo argomento vi rimando al video che cos'è un fungo. Velo parziale. Membrana che riveste e protegge il limenio del fungo. Per approfondire questo argomento vi rimando al video che cos'è un fungo. Verruca. Prominenza come una piccola crosticina che origina come residuo del velo generale, quando questo si rompe. Viraggio. Fenomeno per cui uno o più parti del fungo, come la carne, il limenio o la cuticola, cambiano colore per esempio in seguito al taglio o alla manipolazione. Volva. Residuo del velo generale che rivestiva completamente il corpo fruttifero. La volva si localizza alla base del gambo e può avere diversi aspetti o caratteristiche. Xantosporei. Riferito a funghi che producono spori in massa con la sporata e che sono di colore giallo con varie tonalità. Spesso sono considerati una sottospecie dei leucosporei. Zonature. Aree di colore concentriche che adornano il cappello di alcune specie di funghi come per esempio il lactarius. Se questo video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti al canale e lascia un commento. Grazie per avermi seguito. A presto.